Illustre Presidente, riprendo la parola perché donne bellissime, a lei certamente care, di Antonio Canova Possagno, di Raffaello, di Botticelli, di Caravaggio, di Giovanni Boldini, ci aspettano chiuse da mesi nei musei italiani. Le mostre di Botticelli, Raffaello e Boldini sono al museo di Rovereto, al Mart, e attendono che lei venga a visitarle, sono quadri che aspettano, donne che ci guardano, vogliono che lei le liberi, liberi quelle donne dalle case chiuse. Voglio sperare che lei faccia quello che ha detto, che dopo il 6, diversamente dalla Merkel che arriva fino al 18, lei riapra, secondo logica, teatri, cinema, musei, ristoranti, luoghi dove si può vivere attraverso la ripresa di entusiasmo e la bellezza che dona salute. Mi auguro che quello che lei ha detto sia vero e che noi dal 10 di aprile possiamo riaprire questi grandi musei e anche a Ferrara, dove lei invito, la bella mostra di Antonio Ligabue. Liberi queste donne e ci renda felici.